Adesso presenteremo il premio Best Artist in Staff of the Year, invitiamo sul palco gli agenti della Capital House, Daniele Pietraccione, Luigi Nardozzi e con lui che premierà Alessandro Berluccio. Grazie per la presentazione, sono veramente felice di avervi con voi, vi devo ringraziare per l'evento di Natale, la Christmas Cup, per il vostro evento sociale bellissimo al Teatro Principe, laborioso, ma ce l'abbiamo fatta e sono felice di avervi come partner. So che avete altri appuntamenti, altri impegni a voi, adesso la faccio vedere intitolata a voi, il premio finale è la Fashion of Capri, siete partner tramite soprattutto Daniele, la nostra agenzia di pressi, Luigi, però so che ci tieni tu invece a un pochettino spiegare un po' la vostra attività, anche perché è fresca, nuova, proponete qualcosa di diverso dalle normali agenzie immobiliari, quindi la parola. Assolutamente sì, la nostra è un'accademia in realtà di agenti immobiliari in Italia, con le nostre 31 uffici di cui la nuova apertura a Gallipoli e anche quella di Bresso, il nostro obiettivo è quello di creare la felicità ed è sempre bello vedere una famiglia nella propria casa che comunque è felice. Perché siamo diversi? Perché abbiamo i nostri investimenti immobiliari, siamo gli unici a creare gli MPE per chi conosce il mercato, per rendere una frase più facile possiamo acquistare direttamente in banca una casa. Accompagniamo le persone che vogliono andare a partecipare ad un'asta, ma ripetiamo, anche per noi l'arte è la moda, anche per noi creare felicità è un mondo di fare arte. Grazie. Ho messo in mano appunto il premio che daremo poi alla fine, proprio la conclusione, alla modella intitolata appunto a Capital House che è la fashion art che dà il nome appunto a questo show, però se qui ne approfittiamo di tutti e tre, per che cosa per dare il premio? Il premio è il premio, però bisogna prima dare le nomination. Il premio è Best Artist Staff of the Year, le nomination sono Filippo Arena, Noeme Fucile, Vittorio Rascetti, Vincenzo Martucci, Emanuele Moschella, Martina Tosi e Marika Monaco. Ok, ci sono persone conosciute, meno, più, ma tutte che hanno dato un grande contributo e the winner is, the winner is, professore Vittorio Rascetti. E la modella è da Forlini che consegna il premio al nostro grande amico Vittorio. Prego, prego Vittorio, fa per le foto. Grazie, grazie agli amici di Capital House, a Rebecca che rivedremo dopo. Vittorio, puoi dire due parole e il premio? Allora, devo dire due cose, che in fondo l'arte è tante cose, ma anche un sintomo dell'amicizia. Nell'arte c'è molta competizione, nell'arte c'è molta tensione, però credo che l'amicizia sia lo scopo finale, l'amicizia con le forme, ma anche con le persone. E questo è un po' il senso del nostro affare arte, trovare le persone, incontrarle, è un modo per stare con gli altri attraverso le forme, il rapporto di contemplazione e di piacere del senso. Trovare un senso in questa realtà così informe, così priva di stile. E questo è un elemento centrale nel viso. L'arte ha tante motivazioni, ha tante poetiche, ha una storia infinita, ma spesso ha bisogno di trovare uno stile. Lo stile è una dimensione etica del rapporto con la forma. Grazie a tutti. Grazie. Se vuoi rimanere qui un attimo, io con il Gede ringrazio gli amici di Capital House, ci vediamo presto. Beh, non mi avete video della consegna, della coppia, insomma, ma comunque abbiamo altri progetti insieme per questo 2022. Buona felicità a tutti. Grazie, grazie, grazie. L'agenzia di presto di Capital House, la migliore scelta per i vostri immobili.